Con la sua nuova pista da 2,8 km, l'aeroporto d'Abruzzo potrà ospitare anche voli intercontinentali apprendosi al mondo. La cerimonia inaugurale dei lavori per l'allungamento di 386 metri della superficie di atterraggio e decollo degli aerei si è svolta questa mattina nel territorio comunale di San Giovanni Tiatino e a spallare simbolicamente la prima terra è stato il governatore Marco Marsilio. Atteso da almeno 20 anni, io ricordo quando Berlusconi venne a Pescara e mi disse, anche lui aveva questa spina nel cuore, cioè dal 2002 che avevamo finanziato, previsto questo lavoro, nessuno era riuscito a farlo. Noi siamo riusciti nell'impresa, qualcuno sosteneva che Enac non l'avrebbe mai autorizzato, che c'erano delle difficoltà oggettive insuperabili, non era così, il duro lavoro della nostra squadra messo insieme dall'amministrazione regionale, dalla gestione della società di gestione dell'aeroporto, della Saga, insieme alla collaborazione istituzionale con Enac e Ministero ha portato a questo risultato. Oggi finalmente si può stendere questo asfalto, allungare di quasi 400 metri la pista, trasformare l'aeroporto internazionale d'Abruzzo in un aeroporto intercontinentale, aperto al turismo delle radici e non solo. All'aeroporto d'Abruzzo si potrà partire e arrivare da ogni angolo del mondo, questo apre delle prospettive molto importanti per il nostro territorio. Una pista di un aeroporto non è semplicemente una lingua d'asfalto, deve essere attrezzata tecnologicamente per consentire ai voli di atterrare e decollare in sicurezza e di essere all'altezza di un aeroporto moderno e sostenibile. I lavori avranno un costo di 4 milioni e 720 mila euro e saranno ultimati in circa 150 giorni. Alessandro D'Alonso, vicepresidente della Saga, come intendete procedere con i lavori per non sovrapporvi ad atterraggi, insomma arrivi e partenze? Non ci sarà alcun tipo di problema con arrivi e partenze perché si lavorerà in un'area che è al di fuori del sedime aeroportuale, poi successivamente ci sarà una piccola fase nella quale verrà smantellata la recinzione e allungata in pratica nella zona che stiamo realizzando, quindi arriveremo ai famosi 2.800 metri di pista. Significa innanzitutto più sicurezza, poiché andiamo ad adeguare le dimensioni della pista dal lato monte, quindi riusciremo ad avere più sicurezza in fase di atterraggio e poi soprattutto anche la possibilità di andare a sederci con dei vettori che operano sul campo intercontinentale, quindi la possibilità di aprirci al mondo con aerei che avranno maggiore carico anche di carburante, la possibilità di decollare verso mete intercontinentali che oggi non tocchiamo.